Per questo andiamo a trovare mia madre Puoi accendere la luce? Continuo a pensare a lei Mio figlio ha cancellato questo biglietto, non so cosa fare Quindi lo vuole? Vedremo Conosce il nome del ristorante? Mio figlio è un po' timido Spero poter descansare ora Spera di poter riposare adesso Come si chiama il vostro cane? Ha molto potere in quell'azienda Tutto deve cambiare, è meglio per me Il mio cellulare non è più carico Hai letto la biografia del matematico? Il meccanico ha già controllato l'auto Il pubblico obiettivo di nostra empresa sono i adulti Il target della nostra azienda è costituito da adulti D'altra parte, hanno parlato bene dell'azienda Sua sorella è a Milano, vero? Ho dimenticato la password Devo reimpostarla Non è giusto continuare con questa mentira Non è giusto continuare con questa menzogna Non è vero quello che ti dice Che color di pelo te gustaría tener? Di che colore vorrebbe avere i capelli? Assume tu responsabilità Si presume troppo e si agisce troppo poco Puede essere che non si enamoremo questa volta Forse questa volta ci innamoreremo Da dove proviene il suo cognome? È ovvio che dovremmo risparmiare per viaggiare Quale strumento sa suonare? È un'opinione molto sensata È giusto che mi digas la verità È giusto che tu mi dica la verità È improbabile ganare la lotteria È improbabile vincere alla lotteria Conosco la lei perfettamente Conosco perfettamente la legge È ovvio che questo non è il suo disegno Quedate dove pueda verte Rimani dove posso vederti È probabile che viviamo in Londres Probabilmente vivremo a Londra Voglio fare una donazione a quella fondazione Ricordate sempre quello che avete scritto nel vostro diario A dove va tu madre? Dove sta andando tua madre? Siento demasiado frio Sento troppo freddo Quiero pescado frito, papas e yucas Voglio pesce fritto, patate e manioca Ti piacciono i libri sui pirati? Emozionalmente mi considero molto sano Dal punto di vista emotivo mi considero molto sano È impossibile che non hayas notato questo Non è possibile che non abbiate notato questo Estoy seguro di solicitar questo lavoro Sono sicuro di candidarmi per questo lavoro Quale app mi recomiendas per fare un viaggio? Quale app consigliate per un viaggio? Che peticioni si hicieron? Quali richieste avete fatto? Che comidas quedan fuera della dieta? Quali alimenti sono esclusi dalla dieta? Il conoscimento è potere La conoscenza è potere Non giudicare le persone in questo modo? Conduce in il sentito corretto Guidare nella giusta direzione In conclusione, abbiamo raggiunto l'obiettivo Questa è una domanda molto interessante Queste provi sono corrette Encuentro le risposti facilmente Trovo facilmente le risposte Non so da dove provengano i vicini di casa Non posso negare ciò che ho visto ieri Questo è il quartiere in cui sono cresciuto Te amo davvero Ti amo davvero Che ropa trajiste? Che vestiti hai portato? Il fatto che io sia con lei mi rende triste Dove vuole indirizzare la sua carriera? Vuoi cucinare stasera? Se non cambiate atteggiamento otterrete i risultati È sempre bello avere degli amici Penso tutto il tempo in questo successo Penso sempre a quel evento È una buona negoziazione È una buona negoziazione Il non parla francese, vero? Non parla francese, vero? Debes rispettare mi privacità Dovete rispettare la mia privacy A partir de este momento vuoi escribir más D'ora in poi scriverò di più È un discorso molto motivante Voglio pubblicare questa foto contigo Voglio pubblicare questa foto con voi Adoro le pubblicità di questo marchio Ho un'ottima memoria Necessito ser más metodico È la unica maniera Devo essere più metodico È l'unico modo? Non importa quando leas esto Va a ser todo igual Non importa quando lo leggerete Sarà sempre lo stesso La storia parece ser real La storia sembra essere reale Hay muchas expectativas en este proceso Ci sono molte aspettative L'idea è brillante Vamos a un restaurante japonese Andiamo in un ristorante japonese Quiero un poco di acqua Non me siento bene Voglio dell'acqua Non mi sento bene Non possiamo parlare tutti allo stesso tempo Voglio conectarmi più con la naturalezza Voglio connettermi di più con la natura Ella è una persona molto servicial È una persona molto disponibile È una persona digna di mia amistà È una persona degna della mia amicizia Deberia leer este libro, no? Dovrei leggere questo libro, vero? Al final sempre termino teniendo la razón Alla fine ho sempre ragione Quanto tempo hace che non nos vemos? Da quanto tempo non ci vediamo? Aggrega más detalles all'explicación Aggiungere ulteriori dettagli alla spiegazione Para concluir, cada uno debe dar su opinión In conclusione Ognuno dovrebbe esprimere la propria opinione No quiero hablar más contigo Non voglio più parlare con te Mi pantalón está sucio Necesito limpiarlo I miei pantaloni sono sporchi Devo pulirli Mi padre es un hombre muy talentoso Mio padre è un uomo di grande talento Él es una persona muy superficial È una persona molto superficiale